Abbiamo qui come ospite uno dei soci di Pogliurea Italia Salve a tutti Che è Andrea Dolci, qui presente Che è sostanzialmente mio cliente dal lontano 2016 mi pare Però ho scritto giusto? Sì Sì? Boh Quindi sei anni Diciamo fine 2015 Fine 2015, ecco, qualcosina prima E oggi insomma gli ho chiesto di venire qua per raccontare un po' Tutta la progressione di fatturato che hanno avuto Quanto prevedono di fare quest'anno Grazie alle attività che facciamo assieme Noi in particolare li curiamo tutta la parte digital E adesso quest'anno siccome avevano l'obiettivo di andare a prendere e fidelizzare gli studi tecnici Perché loro sono un'azienda di applicazione della poliurea sui tetti dei capannoni Magari dopo facciamo parlare un po' Andrea E quindi mi hanno chiesto Giuliano ma cosa potremmo fare, cosa non potremmo fare Soprattutto il socio di Andrea Il buon Stefano 2015-2016 vedete abbiamo fatto prima un'analisi di mercato Perché quella cosa lì per noi è essenziale Cioè analizziamo come il prodotto o il servizio del nostro cliente viene cercato online Abbiamo visto che c'era mercato, c'era un mercato potenziale incredibile E quindi da là poi abbiamo strutturato un piano di web marketing E attenzione che io ogni anno gli ho chiesto sempre più soldi Vedete sempre più aggressivo di anno in anno Diciamo che questi sono i numeri Allora da zero a 3 milioni e quest'anno la proiezione com'è? Secondo te? Stranamente stiamo ancora salendo Non so come mai Stiamo salendo Tocami, toccami La proiezione ti tocco Perché siamo partiti da 300 mila euro nel 2016 a 3 milioni nel 2021 La proiezione sembra ancora una media del 30-35% tuttora E potrebbe essere intorno ai 4-4 e mezzo 4 e mezzo Ancora Facciamo un applauso ragazzi Grazie a te E a tutti Ma io semplicemente ho messo un po' di ordine Ho sistemato un po' 2023 insomma appena abbiamo finito questa cosa qui L'idea è quella di andare a strutturare un reparto vendite Mettere 4-5 venditori Perché insomma a me piacerebbe portarli a 15 direi Nel giro di 2-3 anni 15 milioni insomma Con 5 venditori secondo me potete arrivare E la cosa interessante ragazzi Loro hanno un'unicità incredibile Nel senso che loro hanno un'accademia interna Correggimi se sbaglio Così mi ha detto Stefano Sì sì Facciamo la formazione Loro fanno la formazione per due anni Per due anni Agli applicatori e dopo li mandano ad applicare Cioè è una roba Accademia interna per i tecnici E adesso 2023 faremo l'accademia interna per i venditori Quindi praticamente poi siamo andati a produrre tutte queste cose belle qua Ok che vi ho già spiegato ieri Allora uno è il libro L'altro è l'infomercial Poi c'è le testimonianze Ah scusami un attimo Raccontagli anche che clientini piccoli hai preso grazie all'online Piccoli Per esempio la Pompea O perbole delle calze Esatto Mediolanum Banca Mediolano Abbiamo fatto la sede proprio di Ennio Doris Dove li pioveva sulla scrivania E gli abbiamo fatto L'impernazione con la poliurea Sul tetto del suffice Poi cos'è che avete il mercato di Trieste No Porto di Trieste Porto di Trieste scusami Adesso Tutti agganciati online Tutti agganciati online Che hanno guardato l'università di Trieste Che poi sai passaparola Poi tra di loro no Sono andati a sbirciare L'università di Trieste ci ha sposato come azienda manutentrice di tutte le strutture A scopo proprio di caso di studio Loro come unicità hanno accademia interna Due anni di formazione Poi hanno furgoni attrezzati 200, 250, 200 mila euro Sì sono circa 150 mila euro Non ce li ha nessuno E mille metri li fatti in quanto tempo? Altra unicità? Anche in un giorno Anche in un giorno fanno mille metri Altra unicità E udite udite L'unicità quella più incredibile Che quando ne abbiamo parlato con Stefano Sono rimasto Perché poi tutte queste cose le abbiamo inserite all'interno dei materiali È Il Com'è che si chiama Nel caso sia qualche problema Cos'è il rimborso postumo Cos'è quella roba lì? Sì una garanzia Che per dieci anni Garantisce ogni lavoro Che facciamo Quindi È garantito da Si chiama polizza postuma decennale Ed è Esatto È una garanzia Che copre l'intera opera Compresa la ricerca di eventuali danni E il rimpiazzo della stessa totalmente Ed è garantito niente Un po' di meno che da un iposai Vi dico qualche numero Magari così molto semplice Dal nulla Giuliano prende in mano la situazione All'inizio del 2016 Crea il sito Un altro sito Sito visibilità Blog Facciamo 140 frasi 140 Diciamo spot 140 articoli All'anno Di blog Per andare a prendere la coda lunga Cioè le ricerche che facevano le persone online Noi nel 2017 Eravamo sotto Wikipedia Da allora siamo lì Per cui chi scrive Poliurea In Google Esce Wikipedia E sotto c'è il blog di Poliurea Italia E che siamo passati da un pochissimo tempo ad avere 3-4 richieste al giorno E adesso sono una decina almeno al giorno Nuove tutti i giorni Dopo ovviamente non sono tutti i lavori che qualificano Non sono più di 100% Però continuano ad arrivare richieste E come sono arrivati quei nomi che ho detto prima E questo è straordinario Grazie a tutto questo piano Grazie a voi che avete deciso di investire i soldi Alla fine ho fatto il mio mestiere Quindi Però uno deve anche fidarsi Quindi E io mi ricordo Quando ero seduto lì All'inizio Fine del 2015 A una tua riunione Anch'io ero un po' Cioè Aveva dei clienti Che gli erano arrivati Nella stessa maniera Che io vi sto raccontando E non Quindi tu stavi vedendo i casi studio Esatto Stavo vedendo i casi studio Come state vedendo voi adesso Come state guardando Tanto è vero che io mi sono seduto qua prima E io mi sarei seduto con voi Perché cosa ci faccio io qua sopra Eppure Ci si arriva Eppure c'è E sono arrivato Senza volerlo quasi Ed è straordinario Basta credere E sentire Soprattutto se sentite Quella Quell'emozione In lui In quello che fa Credete Che Giuliano ha La capacità straordinaria Di guidare No non fa un piangere Con semplicità Perché Ho avuto occasione Di vedere due altre situazioni Come la tua In altre aziende Però Mi sembrava di andare Gente un po' Montata Che avesse Troppo Si tirava troppo Il seno Sì Forse la tua Secondo me La tua grande Qualità È proprio la spontaneità Fai quello che sei Sì 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 E a me affascina Perché vuol dire Vuol dire che sei fatto per me Perché io sono così Che avesse Che avesse Che avesse Che avesse